Macro categoria studi e boutique legali e professionali. La categoria è quella di diritto del lavoro. Il premio avvocato emergente dell'anno boutique d'eccellenza diritto del lavoro. La motivazione. Per essere un giovane professionista con incarichi istituzionali di altissimo prestigio, anche internazionale. Per essere fiduciario di alcuni tra i principali gruppi di impresa nei settori edile, petrolifero, della difesa e delle nuove tecnologie. Per l'approccio innovativo e l'intensa attività pubblicistica e convegnistica. The winner is... Paolo Patrizio, studio legale e Patrizio. Saluto in collegamento con me l'avvocato Paolo Patrizio, founder di studio legale Patrizio, a cui va questo riconoscimento come avete sentito. Bentrovato avvocato. Buongiorno a voi, grazie. Le chiedo subito un commento a caldo per questo riconoscimento. Che cosa significa per lei anche in un momento come quello che stiamo vivendo? Ovviamente ringrazio il Comitato Scientifico e la direzione delle Fonte World per l'attribuzione di questo importante riconoscimento. Che ovviamente non può che onorarmi immensamente e che si pone a corollario di un importante percorso di crescita professionale, caratterizzato sempre dal forte impegno, dallo studio, da diversi sacrifici ma anche da ottimi risultati, ma forse ancora di più da una vera e propria passione per lo svolgimento di questa professione che è ancora in grado di regalarci grandissime soddisfazioni, enormi emozioni e che davvero ha un orizzonte prospettico davvero vasto e illimitato. Abbiamo letto tante cose nella motivazione, l'approccio innovativo, poi peraltro anche è stato messo in evidenza come seppur da giovane professionista ci siano incarichi istituzionali di grandissimo prestigio anche a livello internazionale. Come guardare al futuro con un'ottica sicuramente ottimistica ma senza nascondere le difficoltà che ci sono oggi? Sì, allora vorrei innanzitutto partire ovviamente dalla motivazione molto anzi anche forse troppo generosa nei miei confronti, vorrei sottolineare come il vero merito va non solo e non tanto alla capacità professionale del singolo quanto forse anche piuttosto alle caratteristiche e le peculiarità del settore di riferimento perché è indubbio che il mondo del lavoro rappresenta quell'ambito in cui quotidianamente per definizione si estrinsecano le varie personalità, i sogni, le aspirazioni della persona, inteso ovviamente nel suo senso sia individualista ma anche collettivo e di impresa e dunque forse il dato differenziale, il vero qui de pluris non può che essere rappresentato dalla reale capacità di condivisione soprattutto in termini etici delle varie iniziative, delle problematiche che ci vengono poste dai clienti perché è evidente che l'aumento della qualità del servizio dipende certamente dalla competenza professionale ma forse anche ancora di più da un qui de pluris che è rappresentato dalla condivisione in termini di valori di base di quelle che possono essere le scelte, le soluzioni ma anche delle vere e proprie battaglie di dignità e di investimento umano prima ancora che economico ed imprenditoriale. Certo, se dovessi farle la fatidica domanda progetti per il futuro che cosa mi risponderebbe? A lei insomma la scelta di quello che vuole mettere in evidenza giustamente? Sì, guardi dottoressa il 2020 è stato senz'altro un anno particolare che ha segnato senza dubbio un reset a livello globale in quanto la crisi pandemica ci ha imposto di ripensare quali sono le nostre reali priorità e valori di base, cioè in un'ottica anche collettiva e non solo individuale. Dunque io penso che per il futuro la vera sfida sarà quella di riuscire a cogliere per tempo quelle che sono le sfide del futuro e di investire fortemente in innovazione, aumento del servizio qualitativo e capacità di visione strategica perché davvero ciò che farà la differenza sarà una capacità di analisi e di lettura di quelli che sono i sistemi di riferimento di base e l'aumento qualitativo dell'offerta. Assolutamente, avere uno sguardo che comprenda veramente tantissime cose che magari si avevano già sott'occhio ma che devono essere messe un po' più in superficie, assolutamente, che poi caratterizzano l'evoluzione normale delle cose ma che è stata accelerata, no? In questo momento, è d'accordo. Anche perché il mondo del lavoro è un mondo certamente in continua evoluzione e dunque noi dovremmo essere in grado di fronteggiare le grandi sfide date dalla globalizzazione, dalla robotizzazione dei processi, da tutto ciò che porta il futuro. Assolutamente sì, ottimo. Io proprio su questo la saluto e la ringrazio. Credo che sia di buon auspicio anche per i tempi che arriveranno e quindi per le sfide che dovremo accogliere nell'immediato futuro. Grazie all'avvocato Paolo Patrizio, founder di Studio Legale Patrizio, a cui va naturalmente questo premio come avvocato emergente dell'anno. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie mille.